Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Oggi esaminiamo la nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza, un documento che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il 2022-2024. Indubbio che la nota presenta una revisione a rialzo delle stime di recupero del PIR, soprattutto grazie al traino delle esportazioni e degli scambi internazionali. Quindi si prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del deficit del debito pubblico con miglioramento dei principali indicatori di crescita e indebitamento rispetto alle stime contenute nel DEF. Il livello del PIR è più elevato e minore indebitamento netto previsto al 9,4% del PIR che consentirebbero una flessione del rapporto tra debito pubblico e prodotto dal 155,6% nel 2020 al 153% nel 2021, che invece era stimato in aumento nel DEF di aprile. Si prevede quindi che la politica di bilancio resterà espansiva, fino a quando il PIR e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Una condizione che, in base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell'anno in poi la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata a ridurre il disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito PIR a livello pre-crisi entro il 2030. Allora facciamo una prima considerazione. La pandemia e la crisi economica ha messo in evidenza la sonora bocciatura delle politiche restrittive e dei vincoli imposti per anni dall'Unione Europea. E, signor Presidente, la Lega lo dice da sempre. Questo è stato uno dei più accesi dibattiti avvenuti durante la crisi dell'Eurozona. Quali sono gli effetti della politica fiscale in Paesi con alto debito pubblico? Ora, con questa grave crisi, signor Presidente, abbiamo la risposta. Il Governo ha obottorto collo capito. L'austerità delle politiche imposte all'Eurozona ha scoraggiato ancor più la produzione. Solo una politica fiscale espansiva aumenta la produzione e una restrittiva la rallenta, anche in Paesi con alto debito pubblico. Quindi, capito questo, il PNRR e gli interventi a sostegno delle imprese, delle famiglie e della domanda sono debito buono, come rispetta spesso il Premier Draghi. E la politica di investimenti deve essere ancora più forte, senza tener conto per ora, dell'alto debito, evitando la rigidità della spesa. Il debito pubblico e il deficit si combatte solo con la crescita, con il numeratore, non con il denominatore, non con politiche di austerity che abbiamo subito in questi anni. Debito buono su investimenti e infrastrutture, nel sistema sanitario, nella sanità di prossimità e assistenza domiciliare. Sostegno alle imprese in crisi attraverso l'accesso al credito, fondo di garanzia e PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Proprio per questo chiediamo che nella legge di bilancio si continui con gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisistemico degli edifici privati. Diventa fondamentale misura di rilancio dell'edilizia la proroga di tutti i bonus e del super bonus 110%, inclusi il rinoso dello sconto fattura e dell'accedibilità del credito, includendo il settore alberghiero e turistico ricettivo, immobili scolastici e di edilizia residenziale. Debito buono se affrontiamo il tema del contrasto al cosiddetto caro energia, con un approccio organico, sostenibile e strutturale, con politiche pubbliche che promuovono finalmente una riduzione dalla dipendenza energetica da altri Paesi, che tutelino e mettono a riparo da oscillazioni eccessive dal prezzo dell'energia elettrica, del gas e del petrolio. Le imprese e famiglie sono in grave difficoltà e non riescono più a pagare le bollette. Investendo nell'efficienza energetica, con risorse ai comuni per l'edilizia residenziale e popolare, si può uscire da questo momento di crisi. Debito buono, ripeto debito buono, se verrà investito nelle riforme, le vere riforme, se si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'aggerimento del carico fiscale, non si perda più tempo. È improrogabile l'estensione ai lavoratori autonomi e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali con uno snellimento e l'accelerazione delle procedure di erogazione, la razionalizzazione delle politiche attive per il lavoro. I nostri giovani e disoccupati hanno bisogno di essere aiutati, formati, qualificati e agevolati nell'accesso e nel reinserimento nel mondo lavoro. Per chi ha perso anzitempo il posto di lavoro, come per contro, bisogna prevedere meccanismi di flessibilità in uscita, tutto questo è assolutamente necessario. Debito buono, se si prevede, nell'ambito della riforma organica strutturale della giustizia tributaria, istituzione di un autonomo e specifico ruolo dei giudici tributari, reclutati mediante pubblico concorso e dedicati esclusivamente alle controversie fiscali di maggiore rilevanza economica, attribuendo ai giudici onorari e tributari le pendenze di minore entità e predendo strumenti che siano deflattivi del contenzioso e chiusura delle liti pendenti, considerando che il 50% del contenzioso finisce in Cassazione. Debito buono, se si affronta il tema della proroga dei termini, delle notifiche, delle cartelle esattoriali riferite al periodo emergenziale pandemico, visto che aziende e cittadini non le possono pagare, valutando con riguardo ai debitori dell'automazione TER di concedere una sospensione sottosegretario, una sospensione non come quella che è stata disposta in questi mesi. Ricordiamo che le 16 rate sospese devono essere pagate tutte entro il 31-12 di quest'anno e le aziende non ce la possono fare. Questa è la realtà. Almeno la sospensione sia corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori dell'Agenzia delle Entrate, cioè che è pari a 18 mesi, perlomeno con riferimento alle scadenze del 2021. E se si affronta, sempre debito buono, senza demagogia, il tema dello smaltimento del magazzino fiscale. Ricordiamo che sono mille miliardi di magazzino fiscale. Una nuova disciplina della riscossione dei debiti iscritti al ruolo. Rottamazione, chiamatela come volete, Rottamazione TER, Rottamazione Quater, Saldo e Stralcio. Insomma, valorizzando il ricorso a strumenti che siano deflattivi del contenzioso, improntati anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale, per trovare il corretto punto di equilibrio tra interessi erariali e la saguaguardia della continuità aziendale. Questo, signor Presidente, si chiama buonsenso. Debito molto buono, signor Presidente. Se si prevede in attuazione del principio del federalismo fiscale e per consolidare i principi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, la revisione dell'attuale riparto tra Stato e Comuni del gettito di tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e gli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari, compensando eventuali variazioni di gettito per diversi livelli di governo. Debito buono, signor Presidente, se si attua una reale riforma del sistema e taglio del carico fiscale in un Paese dove la total tax rate, secondo la Banca Mondiale, ha superato il 59,1%. E allora, nota dolente e di metodo, come si fa ad affrontare una riforma epocale come la riforma del fisco attraverso una legge delega di forme, rispetto a quanto indicato dalle commissioni finanze di Camera e Senato, consegnata ai nostri Ministri poche ore prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Un testo troppo generico che dà la stura a decreti delegati attuativi che le commissioni vedranno di striscio, dove non ci sono le semplificazioni e capite quanto costano al cittadino, alle imprese e le semplificazioni. La Ciglia di Mestre ha valutato in circa 50 miliardi il costo della burocrazia, i costi amministrativi, i costi gestionali, i costi degli adepimenti fiscali e contributivi da parte delle aziende e dei nostri cittadini. Non dovete mettere le mani nelle tasche degli italiani. Per quanto riguarda la riforma del fisco, devo dire che questa è una polemica che la Lega vuole considerare come una polemica di carattere costruttivo. Ciò che era stato individuato da un ottimo lavoro che è stato fatto, devo dire, dalle commissioni finanze di Camera e Senato, con degli indirizzi dati al Governo, poi non ce lo siamo ritrovati nel disegno di legge delega che è andato in Consiglio dei Ministri. È stato per questo che i nostri componenti del Governo non hanno partecipato. Perché, come dicevo prima, oltre al problema del metodo, c'è un problema forte anche di contenuti. Il tema del catastro, il tema della tassazione immobiliare. Era stato detto, era stato ripetuto dal Premier Draghi che non sarebbe mai stata aumentata la tassazione sugli immobili. Ci troviamo all'interno del disegno di legge delega una proposta di revisione delle rendite catastali. Quando sappiamo tutti che il tema fondamentale di questa nazione sono il 1.200.000 immobili che non sono accatastati, e questo si sa dalle areofotogrammetrie che sono state fatte negli ultimi anni, 1.200.000 immobili che non sono accatastati. Questa è un'Italia a due velocità. Ci sono comuni che hanno già fatto la variazione delle rendite catastali, ci sono comuni che hanno fatto l'aggiornamento delle zone censuari e delle microzone, ci sono zone del Paese dove questo non è stato fatto. E allora, come si dice, le riforme devono partire dal basso e non attraverso una modifica che porterebbe a degli aumenti fino al 40%, perché questo è quello che c'era nella riforma che è rimasta nel cassetto del governo Renzi per molti anni. Il passaggio da Vani a metri quadri porterà un aumento indifferenziato del 40-50% su tutti gli immobili, ma soprattutto in quei comuni dove la revisione delle rendite catastali è già stata fatta, non nei comuni dove non c'è la revisione delle rendite catastali. Questa è la realtà. E' per quello che noi ripetiamo, si parta da un accertamento delle unità immobiliari fantasma che non esistono e dopo ci si mette a tavolino per trovare una soluzione a un sistema che è vero, che è vecchio, che deve essere riformato. Ma non si può partire dal passaggio to-cure da Vani a metri quadri con un aumento della tassazione immobiliare di questo tipo. Poi che cos'è che non troviamo nella delega fiscale di molto importante? Nella mediazione che c'è stata tra i partiti si è raggiunti a una decisione concordata che il regime forfettario, la flat tax del 15%, non sarebbe stata toccata. All'interno di questo disegno di legge delega questo non c'è. E sappiamo che la volontà del Ministero dell'Economia, ma soprattutto di una parte di questa maggioranza, è quella di portare l'aliquota dal 15% al 23%, perché è la prima aliquota IRPEF, senza considerare che questo regime forfettario è stata l'unica fortuna per le partite IVE. Pensate, in questo disegno di legge delega non si parla di semplificazioni, ma la grande semplificazione che è stata fatta con un provvedimento estremamente semplice, dove i soggetti non tengono la contabilità, non fanno alcun adempimento, pagano il 15% per i coefficienti solamente con la dichiarazione di redditi. Queste sono le semplificazioni. Le imposte cedolari sono le semplificazioni, lo dico a lei, il sottosegretario. Lei lo sa benissimo. Noi siamo assolutamente d'accordo che va riformata l'IRPEF, siamo d'accordo, ma non si tocchino questi strumenti importanti per le partite IVE. Un milione e mezzo di professionisti e aziende che hanno avuto una boccata d'ossigelo solamente per questo regime. Poi anche, se devo dire il tema dell'IRPEF, il disegno di legge delega è estremamente generico e parla di un sistema di carattere duale. Noi sappiamo, lo ripetiamo da anni, che i soggetti che pagano le tasse in Italia sono i lavoratori dipendenti e gli autonomi che hanno un reddito da 28 a 55 mila euro. Sono coloro che pagano l'aliquota del 38%, 11 punti percentuali rispetto all'aliquota precedente. Questo ripetiamo da anni. Allora, ditelo, ditelo, doveva essere scritto all'interno del disegno di legge delega. Cioè, ditelo che basta mettere un'aliquota inferiore al 38%, dal 27 al 38%. Perché sono 11 punti percentuali di differenza. Basta, c'è cose semplici sotto segretario. Non basta scrivere delle cose così generiche. Perché il problema di questo disegno di legge delega è che ciò che non è dentro o ciò che è scritto in maniera generica ce le troveremo dopo nei decreti delegati. Ed è questa la paura che ha la Lega. E l'aumento della tassazione, ripeto, c'è all'interno di questo provvedimento. Quindi noi oggi, e concludo, voteremo la risoluzione, che è un atto di indirizzo. Benissimo. L'abbiamo visto, l'abbiamo concordato insieme. Ma continuiamo a ribadire che non voteremo provvedimenti di aumento delle tasse. E troviamo che questo disegno di legge delega sulla riforma del fisco doveva essere concordato. Ma penso che ci sia ancora la possibilità, Vice Ministro Castelli, Presidente, di rivederlo in queste ore. Cioè, togliamo ciò che non serve e togliamo ciò che può portare a un aumento della tassazione. L'Italia, gli italiani non ne hanno bisogno e la Lega si opporrà a questo. Grazie.